Circa 300 denunce per truffe online ed un centinaio per clonazione di carte di credito solamente nei primi sei mesi del 2016. E' la Polizia Postale di Arezzo ad illustrare i dati aretini del fenomeno, i cui numeri, anno dopo anno, continuano ad aumentare. Noi abbiamo registrato che dal 2014 per esempio al primo semestre del 2016 l'aumento è di circa il 15-20% per ogni anno. Principalmente sono acquisti che vengono fatti in rete sui famosi portali che sono presenti in rete. Quindi andiamo in questo periodo specialmente per le truffe in pellet, per l'acquisto di orologi, giubbotti invernali. E principalmente sono riferiti alle stagioni. Per quanto riguarda invece le clonazioni di carte di credito, il maggior numero di episodi viene registrato in concomitanza con le grandi manifestazioni che portano in città un maggior afflusso di persone. Principalmente in quelle giornate vengono clonati o quantomeno provano a clonare postazioni bancomat dislocate su tutta la città di Arezzo. Nessun caso segnalato nel 2016 invece per quanto riguarda gli episodi di cyberbullismo, tema caro alla polposta di Arezzo che da tempo si è attivata con campagne di informazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici. Ci confrontiamo, parliamo con i ragazzi degli istituti e illustriamo le problematiche del bullismo, cyberbullismo e quindi gli diamo le indicazioni per cercare di evitare tali accadimenti. Un genitore cosa può fare per tutelare il proprio figlio? Ecco, innanzitutto il genitore deve verificare l'umore del bambino per vedere se va volentieri a scuola, se ha degli atteggiamenti strani, cioè principalmente guardare come i comportamenti del figlio. Se inizi a notare che qualcosa non va, il bambino è chiuso, non parla con gli altri, non vuole uscire, non vuole andare a giocare, è un campanello d'allarme e quindi questo insomma il genitore immediatamente si dovrebbe confrontare con l'istituto scolastico per capire se o meno a scuola ci fossero dei problemi. Numeri in crescita invece per quanto riguarda il fenomeno della pedopornografia. Ultimi dati che sono stati pubblicati a Rezzo, diciamo, è una di quelle realtà dove si sono verificati molti casi di denunce per reati di questo genere. Quanti sono nel 2016? Nel 2016, nel primo semestre, circa 8.